Salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Luca Alessi con L'irrazionale. L'irrazionale è una raccolta di racconti la cui tematica principale è la ragione e i limiti da essa imposti. Sogni e disturbi psichici divengono portali aperti sulla verità. Quando il raziocinio si assopisce il cervello riesce a sfiorare l'immensità e la potenza dell'universo, donando seppure per un istante al protagonista di turno, la consapevolezza di essere solo un piccolo tassello in un mosaico più grande e complesso. 29 storie fantastiche in cui l'orrore psicologico, unito a quello sensoriale, gioca un ruolo preponderante, entrando sotto pelle e proiettando il lettore nei mondi fantastici immaginati dall'autore. L'autore dice nell'introduzione a questo libro, esistono leggi universali a cui l'essere umano non può opporsi, leggi che vanno al di là della sua conoscenza e possono scontrarsi con la sua razionalità. Quando queste si scontrano con l'uomo creano inevitabilmente stupore e paura, ma anche sete di sapere, ed è proprio ciò a condurlo verso sentieri oscuri e pericolosi, dove spesso perisce per la sua natura debole e fragile, che non è certo in grado di competere con l'universo. A questo punto mi piacerebbe leggere per voi un breve racconto tratto dalle pagine di quest'opera. L'irrazionale Sono un ragazzo piuttosto introverso, agli occhi della gente, ma pochi conoscono realmente la mia vera essenza, le paure e gli interessi più reconditi. Una sera, come sovente accadeva, mi recai nella mia stanza personale, situata di fronte a casa. Le sensazioni, quando sopraggiungeva l'oscurità, erano sempre le medesime, pronte ad accogliermi. Vivevo in campagna, e lì la differenza tra il giorno e la notte è devastante. Di giorno sembra il paradiso. I prati e gli alberi assumono un aspetto quasi celestiale, e la profondità di campo è ben definita. La notte però non è così. Tutto assume un aspetto piuttosto sinistro, almeno ai miei occhi. Nella mia stanza, spesso e volentieri, facevo ricerche sull'occulto. Adoravo immergermi in testi che parlavano di avvenimenti paranormali e venivano visti in malo modo da persone razionali. Spaziavo tra diversi argomenti, dalle vocazioni di demoni ad avvistamenti di fantasmi, e così via. Ciò nonostante, un articolo mi lasciò scioccato e mi fece sobbalzare dalla sedia. Sì, vi erano proprio descritte le sensazioni che provavo, ed erano sapientemente illustrate da un tale esperto dell'occulto, dottor Marcellesi. L'articolo trattava di forze oscure che si annidavano nel buio e vengono avvistate solo in presenza di grande paura. L'articolo parlava anche del modo in cui queste figure possono essere viste con la coda dell'occhio. Fu proprio in quell'istante che, spinto da una sorta di luce fioca, mi girai verso la porta a vetri della mia stanza, ma nulla. Era soltanto il riflesso delle luci del lampadario che riverberava sul vetro dell'uscio. Eppure, nell'istante in cui stavo per girarmi, credevo di aver visto una sagoma sinistra. Però, come si fa in questi casi, si dà credito alla seconda volta in cui si scorge qualcosa di insolito. Così mi risollevai e pensai che dovessi smetterla di concentrare il mio tempo su simili assurdità. Spensi il pc, mi alzai e uscì dalla stanza, chiusi la porta chiave e spensi la luce. A quel punto l'oscurità la fece da padrona e il terrore prese il sopravvento. Impugnai il mio smartphone e con mano tremolante accesi la torcia. Mi incamminai non solo guardando in direzione della luce della pila, ma anche verso i lati oscuri. Le ombre erano lì e poi svanivano ogni qual volta mi girassi in una direzione buia. Ero terrorizzato. Ora mi aspettava il passaggio successivo, cioè prendere il mazzo di chiavi e trovare quella giusta per entrare nel cortile di casa. Tuttavia, come ogni sera, mi girai verso gli sconfinati prati. Ma non osai puntarvi la luce, perché, al primo sguardo, strane figure si presentavano ai miei occhi. Rivolgere la torcia elettrica in quella precisa direzione per me sarebbe stato sconvolgente. Magari avrei visto ciò che più temevo e mi concentrai a scegliere la chiave per entrare nel cortile, che come al solito sbagliai a scegliere, forse per via del mio terrore dato proprio dalla zona in cui mi trovavo. Dopo qualche tentativo scelsi la chiave giusta, quando avvertì una presenza alla mia sinistra. Nell'istante in cui la vidi mi venne un tuffo al cuore. Fortuna volle che la mia mente elaborò la figura giusta, cioè il mio gatto, il quale d'abitudine rincasava tardi e così lo feci entrare in casa. Andai direttamente a letto e, prima di addormentarmi, lessi un libro del mio autore horror preferito. Il mattino seguente mi svegliai con un gran mal di testa e quindi, dopo colazione, presi delle pillole. La giornata di lavoro in ufficio sarebbe stata devastante. Ritornò la sera e la mia sete di conoscenza verso l'occulto ricominciò a farsi sentire con ardore. Sembrava assurdo, ma era la stessa sensazione di quando dovevo smettere con gli alcolici. Poi, però, senza curarmi delle conseguenze, riprendevo a bere. Solo che questa misteriosa forza era moltiplicata per mille. E così mi recai nella mia stanza personale. La sorte volle che il sole, anche se in fase discendente, illuminasse ancora bene i vasti prati intorno a casa mia e mi sentii sollevato. Entrai nella stanza, accesi il pc, mi immersi di nuovo nelle mie ricerche sconvolgenti e ricapitai ancora in quell'articolo che stavo leggendo la sera prima. Esso parlava del sistema per vedere mitidamente le creature. Ero sconvolto, non volevo proseguire nella lettura. Eppure era come se una forza misteriosa mi guidasse. Nell'articolo veniva detto che, per visualizzarle, bastava mantenere lo sguardo. Avrebbe funzionato se il soggetto in questione non si fosse lasciato prendere dalla razionalità. Il resto dell'articolo enunciava così. «Qualsiasi cosa vedrete cambierà a voi la vita. Sappiate che non sarete capiti». Il testo si interrompeva in tal modo. Ero sconvolto e le mani cominciarono a tremare. Ora la paura sembrava più palpabile e reale. Anche se non avevo scorto nulla, il pensiero che potessi vedere le creature mi pietrificò. Il collo pareva bloccato e la solita luce fioca che rifletteva sul vetro della porta mi fece girare a fatica. Lo vidi. Mi stava attirando a sé. Fasci di luce gialla con dietro un volto scuro mostruosamente indefinibile mi stavano catturando. I denti aguzzi furono l'unico particolare degno di nota. La realtà ormai superava la fantasia e il terrore aveva preso il sopravvento sulla razionalità. «Stavo girando su me stesso in un mondo di caos e urla blasfeme. La terribile sensazione vorticosa e angosciosa che sento non avrà mai fine. Che Dio mi aiuti!» Referto del dottor Magli. Il paziente lamenta deliri e sudorazione copiosa e il racconto è sempre il medesimo. «Non dovevo girarmi per non continuare a girare». Bene, spero di essere riuscita a incuriosirvi. Se deciderete di tuffarvi fra le pagine dell'opera di Luca Alessi, buona lettura! Noi ci vediamo presto con un nuovo episodio di La narratrice di sogni. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.